Segnalazione arrivata da un nostro reporter di strada questa mattina in via Zacconi, zona San Lazzaro Fano, a seguito di uno spiacevole episodio di tentato furto e aperture delle vetture presenti nella via residenziale. In particolare, le tre macchine coinvolte sono state aperte senza segno di scasso o forzatura delle portiere. Uno dei proprietari ha ritrovato l'auto completamente aperta con vari oggetti sparsi all'interno dell'abitacolo. Come ha ritrovato l'auto? È completamente aperta, gli oggetti interni erano sotto sopra, praticamente anche il bagagliaio è tutto sotto sopra, senza scasso, senza rovinare l'auto. La seconda volta, un vicino di casa è la terza, quella di fronte a casa mia, la signora è la terza, anche lei. Purtroppo non sappiamo come comportarci, ci sentiamo impotenti. Lei ha segnalato questo episodio? Ho segnalato la cosa ai carabinieri. Ha ritrovato tutti gli oggetti presenti o gli hanno rubato qualcosa in particolare? Ho trovato tutti gli oggetti, sì, sì. Evidentemente cercano oggetti di valore o di oro o qualche cosa di più importante. Episodi di questa entità sono accaduti da come ci ha spiegato il cittadino, diverse volte anche in diverse zone della città. In questa zona, che è il Foro Boario, San Lazzaro, abbiamo saputo che altre auto sono state aperte con lo stesso metodo, praticamente senza scasso o quantomeno, da qualcuno hanno rotto il vetro, però da noi solo senza scasso.